Ben ritrovati attraverso l'arte, la manifestazione artistica organizzata dall'Associazione L'Astrolabio si terrà questo fine settimana, 3-4 settembre, dalle 19 alle 24 in Viale secondo Moretti a San Benedetto. Per parlarne abbiamo qui con noi la Presidente Teresa Annibali. Teresa, si tratta di una manifestazione poliedrica che coinvolge diverse associazioni del territorio. Sì, salve a tutti. Innanzitutto è una manifestazione patrocinata dal Comune di San Benedetto e dall'Assessorato alla Cultura che comunque ha deciso di credere in questo progetto e ci ha sostenuto anche non solo da un punto di vista pratico ma anche da un punto di vista di idee, di creazioni, di trovate. Inoltre abbiamo deciso proprio quest'anno di collaborare con un ampio numero di associazioni locali proprio perché crediamo nello sviluppo associativo del territorio e quindi praticamente la manifestazione sarà, potremmo dire, una serie di postazioni ognuna dedicata ad un'associazione diversa dove avverranno, potremmo dire, diverse sfaccettature dell'arte. Per esempio avremo un'area con degli artisti che dipingeranno dal vivo e un musicista che suonerà e sarà curato dall'associazione Prima Persona Plurale che si occupa di musica. Poi avremo un'area dedicata al teatro con l'associazione Caledoscopo che organizzerà delle performance dal vivo e poi avremo un'area fotografica dove ci sarà una mostra e delle proiezioni di foto a cura del Fotocine Club e infine un'area pensata per i più piccoli con dei laboratori per bambini organizzati da noi in cui i bambini si potranno fermare e creare insieme appunto degli lavoretti che potranno poi riportare a casa. La manifestazione è pensata per tutti ed è pensata per far scoprire appunto le diverse sfaccettature dell'arte attraverso questa bellissima passeggiata che poi vi ha le secondo Moretti e tutte le viuzze che comunque ne fanno parte ai lati. Per trovare maggiori informazioni riguardo la nostra manifestazione potete andare sulla nostra pagina Facebook che è l'Astrolabio oppure sul nostro Instagram Astrolabio Associazione dove ci saranno tutte le dritte e tutti comunque anche le collaborazioni e i ringraziamenti anche ai nostri sponsor che ci hanno sostenuto. Teresa a breve ripartiranno anche i corsi da voi organizzati, tante le domande che vi rivolgono ogni volta. Sì, infatti noi teniamo anche un blog dove io personalmente raccolgo tutte le domande dei miei allievi riguardo la tecnica dell'arte, diciamo come creare, quali possono essere i dubbi e che sono comunque sempre potremmo dire sviscerati durante le lezioni. I corsi ripartiranno l'ultima settimana di settembre, faremo un open day il 25 e poi a seguire una settimana di prova in cui sarà possibile venire a provare gratuitamente il nostro corso di disegno e pittura per adulti e per bambini. Sarà possibile poi trovare tutti quanti gli orari e giorni sempre sulla nostra pagina Facebook e sul nostro Instagram e vi aspettiamo, vi aspettiamo numerosi, specialmente tutti coloro che hanno sempre voluto provare a disegnare ma non hanno mai avuto il coraggio e magari non si reputano abbastanza bravi perché personalmente li reputo i miei allievi preferiti. Grazie Teresa, ricordiamo l'associazione L'Astrolabio, io vi auguro buon proseguimento su Radio Azzurra.